Che secondo me la mente umana decide in tre fasi. La prima fase, quando una persona ha bisogno di porte e finestre, è quella della consapevolezza. Noi spesso e volentieri proviamo a dare una soluzione fantastica a un problema che il nostro cliente non percepisce. E poi ci lamentiamo perché le persone non comprano, e poi ci lamentiamo perché le persone ci vogliono pensare. Ma se noi abbiamo ben capito qual è il problema che hanno quelle persone che sono entrate nel nostro showroom, difficilmente possiamo dargli una soluzione. Quindi la prima cosa è capire dove si trova il potenziale cliente in quel momento, prenderlo per mano e man mano portarlo avanti all'interno di quello che è il nostro sistema, il nostro percorso di vendita, chiamatelo come volete. Questa è la prima cosa. Seconda fase qual è? È quella della valutazione. Io ho ricevuto diverse offerte, io ho capito di avere un problema, devo valutare quale soluzione che mi è stata proposta è quella che meglio risponde a quelle che sono le mie esigenze. E poi c'è una terza fase che è quella della conversione. Conversione, ragazzi, mentre fino a qualche anno fa la conversione era solo compra, oggi la conversione è anche mandami un'email, è anche scrivimi, è anche contattami. Non pensiamo solo alla conversione ultima, vale a dire il bonifico sul conto corrente. Per carità è importante, ma di sicuro se non inseriamo delle fasi intermedie dal momento in cui una persona entra in contatto con me al momento in cui ci fa questo bonifico, difficilmente riusciamo a capire come migliorare e come ottimizzare il nostro processo di vendita. Altra cosa importante, noi alla maggior parte dei casi ci ricordiamo dei nostri clienti solo quando sono nella fase di, perdonatemi, nella fase di conversione. E quando sono nella fase di conversione, tutte le persone stanno chiamando quella persona per dirgli cosa hai deciso. E guarda caso, spesso e volentieri, le persone ci rispondono in malo modo o comunque ci fanno capire che sono abbastanza seccate, abbastanza scioccate dal fatto che tutti quanti provino a chiamarle, e ad insisterle per sapere cosa hanno deciso.